fedez continua a godersi le sue vacanze da single ma sembra ancora conservare dei ricordi dell'ex moglie chiara ferragni scopriamo il retroscena il rapper di rozzano fedez continua a godersi le sue vacanze tra la sardegna e centrope ma alcuni giorni fa è stato al lago di como con i figli leone e vittoria villa matilda la proprietà acquistata insieme all'ex moglie chiara ferragni poco più di un anno fa sembrerebbe che il cantante conservi ancora qualcosa appartenente alla sua ex quella di fedez è la prima estate da padre single dopo diversi anni il rapper di rozzano si sta godendo le sue vacanze in barca tra sardegna e centrope in compagnia degli amici e della presunta nuova fiamma garan ceotie tra un giro a largo e l'altro dove ha incontrato anche l'attore hollywoodiano johnny depp il cantante ha trascorso un fine settimana al lago di como con i suoi figli leone e vittoria fedez conserva il ricordo dell'ex moglie chiara ferragni la famiglia alloggiato a villa matilda la proprietà che aveva acquistato più di un anno prima con l'ex moglie chiara ferragni nonostante la casa sia stata messa in vendita sembra che il cantante di sexy shop non voglia rinunciarsi nelle scorse settimane quando è tornato nella villa insieme ai figli in molti hanno notato come l'arredamento dell'edificio sia rimasto tale e quale a prima molti follower hanno notato in particolare una foto nel salone principale della casa la stanza che con le sue vetrate da proprio sul lago di como vede una foto rappresentare l'intera famiglia insieme ad essere rappresentati sorridenti ci sono proprio il cantante l'ex moglie chiara ferragni e i loro figli leone e vittoria nonostante ad oggi la loro famiglia sia divisa la foto è rimasta nel salone e in molti sembrano credere che possa essere di buon auspicio per mostrare ai loro figli che possono mantenere dei rapporti civili nonostante la rottura alcune settimane fa è stato svelato che villa matilda appartiene esclusivamente al rapper secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale oggi il mega attico a milano da 750 metri quadri apparterebbe all'imprenditrice digitale chiara ferragni mentre villa matilda sul lago di como appartiene al cantante la proprietà dovrebbe essere stimata per un totale di 5 milioni di dollari e oggi è in vendita presso un'agenzia immobiliare il cantante sembra volersela godere il più possibile